Altro weekend di regate e vittorie per le squadre agonistiche della Fraglia Vela Riva. La squadra Optimist Riva 1 vince il trofeo Pini Optimist a Mandello Dell'Ario, regata a squadre con 16 team iscritti. Mattia Cesana, Valerio Mugnano, Tommaso Bocconi, Agata Scalmazzi ed Emma Mattivi hanno conquistato il prestigioso trofeo dopo aver battuto in finale la squadra di Malcesine. Buon settimo per Riva 2 con Betta Martini, Elena Prandi, Malika Bellomi, Greta Moreschi e Giovanni Matteotti. La squadra Laser invece era impegnata per l'Europa Cup sul lago di Lugano, manifestazione che è stata ancora all'insegna dei colori fragliotti nella categoria Radial con Gallinaro e Tezza protagonisti assoluti. Bene anche tutto il resto della squadra che sta crescendo con numeri e risultati. Ora tutte le forze tra coach, genitori, ragazzi e detti ai lavori saranno dedicate all'organizzazione del 35esimo meeting del Garda Optimist che inizierà la settimana prossima con centinaia di bambini e famiglie ospiti a Riva del Garda per partecipare alla regatta da Guinness World Record. Grazie a tutti.